Quando pensiamo a un vulcano, ci viene in mente un monte a forma di cono troncato. Ma non tutti i vulcani hanno quella forma. È il caso dei Campi Flegrei, che sono una caldera, cioè una vasta area vulcanica con una struttura particolare, che si estende a ovest di Napoli da Monte di Procida a Posillipo, e comprende anche una parte sottomarina nel Golfo di Pozzuoli. La caldera si è generata in seguito a grandi eruzioni esplosive. Sismicità, fumarole, fanghi bollenti e deformazioni del suolo sono ben note fin dall'antichità. Infatti, il suo nome deriva da Flegreo, che in greco antico significa ardente. L'ultima eruzione è stata nel 1538. Nel giro di pochi giorni si è formato il cono di Montenuovo. Dall'ora il vulcano è quiescente, cioè dormiente, ma continuano i segnali di attività. In particolare, i Campi Flegrei sono caratterizzati da bradisismo, cioè un sollevamento e un abbassamento del suolo. Le ultime crisi bradisismiche sono avvenute tra il 1969 e il 1972, e poi tra il 1982 e il 1984, con un grande sollevamento del suolo e centinaia di terremoti, che hanno richiesto l'allontanamento della popolazione del rione Terra, qui a Pozzuoli. Sulla caldera dei Campi Flegrei oggi vivono circa 500.000 persone. L'area comprende diverse cittadine e alcuni quartieri di Napoli. Sono inoltre presenti importanti zone industriali e numerose attività economiche. Il territorio è stato suddiviso in zona rossa e zona gialla, in base alla relativa pericolosità. In caso di eruzione, la zona rossa potrebbe essere invasa da flussi piroclastici, cioè vere e proprie nubi incandescenti di gas, massi e lapilli, che scorrono ad alta velocità e che rappresentano il fenomeno più pericoloso per le persone. È inoltre esposta a ricadute di ceneri in grande quantità. Fanno parte della zona rossa i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, parte dei comuni di Giuliano in Campania e Marano di Napoli, e i quartieri di Napoli Soccavo, Pianura, Bagnoli, Fuorigrotta, San Ferdinando, Posillipo, Chiaia, Arenella, Vomero, Chiaiano e Monte Calvario. La zona gialla comprende un'ampia area esposta al pericolo di ricaduta di lapilli e di ceneri vulcaniche. Della zona gialla fanno parte sei comuni e 24 quartieri di Napoli. È possibile sapere con precisione quando ci sarà di nuovo un'eruzione? La scienza oggi non può dirci con certezza quando, come e dove avverrà la prossima eruzione. I campi flegrei sono costantemente monitorati dall'osservatorio vesuviano degli NGV, che tiene sotto controllo i parametri del vulcano per individuare la presenza di eventuali fenomeni precursori. Tra questi, per esempio, i terremoti e le deformazioni del suolo che spesso precedono le eruzioni. In base al monitoraggio dell'attività del vulcano sono previsti quattro livelli di allerta. Il livello di allerta verde corrisponde all'attività ordinaria del vulcano, mentre i livelli di allerta giallo, arancione e rosso segnalano un crescente grado di pericolosità. Ciascun livello di allerta può avere una durata variabile. Dal 2012 a oggi i campi flegrei sono in allerta gialla. Per questa ragione è stata attivata la fase di attenzione, che significa il potenziamento del monitoraggio, la verifica dei piani di protezione civile. La storia della caldera è fatta di eruzioni esplosive. Secondo i vulcanologi, le future eruzioni potrebbero essere dello stesso tipo. L'eruzione può partire da qualsiasi punto della caldera. Uno scenario impressionante. Ma se dovesse succedere, che cosa potremmo fare? Grazie al monitoraggio e con il piano di protezione civile, siamo pronti per affrontare un'emergenza di questa portata. Il piano nazionale per il rischio vulcanico dei campi flegrei definisce le attività che ciascun ente e amministrazione deve organizzare nelle diverse fasi operative. Attenzione, preallarme, allarme. Per la zona rossa, in allarme, l'unica cosa da fare per non rischiare la vita è allontanarsi prima dell'eruzione. Chi vuole allontanarsi già in preallarme può farlo in autonomia, scegliendo la propria sistemazione e ricevendo un contributo economico da parte dello Stato. Dal momento in cui scatterà l'allarme, saranno necessari tre giorni per l'allontanamento di tutte le persone dalla zona rossa. L'accesso all'area resta vietato fino a indicazioni diverse da parte delle autorità. Durante l'allarme ci si può trasferire in una sistemazione scelta in autonomia, ricevendo un contributo economico da parte dello Stato o nella regione o provincia autonoma gemellata con il proprio comune. Come si raggiungono le nuove sistemazioni? Si può usare un mezzo proprio, rispettando gli orari e i percorsi previsti dalla pianificazione, oppure uno messo a disposizione dallo Stato. Chi sceglie di usare i mezzi dello Stato deve recarsi nelle aree di attesa individuate dai piani comunali di protezione civile. Le aree sono raggiungibili anche con delle navette. Da lì ci si sposta con i pullman della regione Campania verso l'area di incontro fuori dalla zona rossa. Dalle aree di incontro si partirà per trasferirsi nelle località gemellate. E chi abita nella zona gialla, cosa deve fare in caso di eruzione? La zona gialla è esposta alla ricaduta di lapigli e ceneri vulcaniche. In base alla direzione dei venti e all'eruzione, le autorità decideranno se sarà necessario allontanarsi dalle diverse aree. Se non è necessario allontanarsi dall'area ma si è interessati dalla caduta di cenere, quali comportamenti bisogna tenere? Si deve rimanere in casa con le finestre chiuse. Prima di bere o utilizzare l'acqua del rubinetto, assicurarsi che ordinanze del comune non lo vietino. Non uscire all'aperto se non è indispensabile. Se si deve uscire, è consigliabile indossare una mascherina protettiva e occhiali antipolvere. Evitare l'uso dell'auto e di motocicli. È molto pericoloso guidare nei tratti di strada coperti di cenere. L'auto può intralciare i mezzi di soccorso o danneggiarsi. Adesso sappiamo cosa fare in caso di allarme. È comunque importante tenersi informati tramite i canali ufficiali delle istituzioni, comune, regione, dipartimento della protezione civile e osservatorio vesuviano. Ma per essere davvero pronti, resta ancora un piccolo passo da fare. Bisogna chiedere informazioni al proprio comune sul piano di protezione civile. Conoscerlo è un dovere di tutti e può salvarci la vita.